Se non conoscete questo, è Arturo, questo è Arturo, la mascotte di noi pescatori, neanche del porto. A luna di notte di sabato sera, domenica sera, una brava persona l'ha investito, penso appositamente, proprio per rivestirlo, ha perso un arto dietro che adesso lo portiamo da un'associazione, vediamo cosa si può fare, perché servono soldi e questo cane soldi non ne ha, e dobbiamo cercare di aiutarlo. Andiamo Arturo, dai, dai a venire su.